L'accusa è di omicidio colposo per la morte dell'operaio Giuseppe Fecondo, deceduto a causa delle conseguenze patite dopo un incidente sul lavoro nella zona industriale Exasi, cadde nel vuoto precipitando dal tetto di un capannone sia in primo che in secondo grado è arrivata la condanna per l'imprenditore alla testa dell'azienda che aveva assunto Fecondo per Davide Catalano a fine marzo. Saranno i giudici di Cassazione a pronunciarsi, è stata fissata l'udienza e la difesa rappresentata dal legale Fabrizio Ferrara ha proposto il ricorso a seguito della decisione della Corte d'Appello di Caltanissetta che nel febbraio dello scorso anno ha confermato la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione. Per l'accusa ci sarebbero state violazioni delle norme in materia di sicurezza, Fecondo venne trasferito in ospedale dove morì. Per la difesa non ci sarebbe mai stata una correlazione tra quanto accaduto e gli obblighi normativi imposti alla proprietà dell'azienda Cimet che aveva appena assunto l'operaio. L'incidente si verificò durante un sopralluogo preliminare all'installazione di pannelli fotovoltaici. I familiari della vittima, partecipiti nel giudizio assistiti dagli avvocati Giacomo Di Fede, Rosario Giordano e Cristina Guarnevi, ritengono invece che le cause dell'accaduto siano da debitare proprio alla mancata applicazione dei protocolli di sicurezza. La difesa di Catalano invece anche nel corso dei giudizi di primo e secondo grado non ha mai escluso che il decesso possa essere stato favorito da possibili omissioni mediche. Ricostruzioni alternative a quella degli inquirenti che ha poi portato a processo l'imprenditore che adesso attenderà la decisione di cassazione. Ai familiari dell'operaio negli altri gradi di giudizio è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni oltre ad una provvisionale. In primo grado la condanna fu pronunciata con pena sospesa ma condizionata al pagamento della provvisionale appunto. I giudici del Tribunale di Gela e quelli d'appello di Caltanissette invece hanno escluso la responsabilità della società Cimet assistita dal legale Francesco Giocolano.